E adesso andiamo a Pisticci dove Altra Agricoltura ha inaugurato in maniera provocatoria un curioso Lido. Allora ci dice tutto in diretta Luigi Di Lauro. Sì, grazie. Quello che è stato inaugurato questa mattina è il Lido Momò sulle rive del lago artificiale Momò, così ribattezzato per i ritardi della politica, nato all'indomani di una delle ultime alluvioni che ha colpito la Basilicata e la vicina Puzda. Qui questa mattina si sono riuniti i rappresentanti delle associazioni che sui territori lottano per il rispetto dell'ambiente e per vedere riconosciuti i diritti dei cittadini. Sono arrivati appunto dalla vicina Puzda, dalla Campania e ci sono ovviamente i rappresentanti del movimento Terreglioni che di Altra Agricoltura. Con loro parliamo di quanto è accaduto in questi mesi e soprattutto quali sono le rivendicazioni. Per esempio voi che arrivate dalla vicina Taranto avete problemi seri con l'Ilva e per i terreni che si coltivano in quella zona. Sicuramente, buongiorno a tutti, io sono Vincenzo Fornaro, sono appunto il primo elevatore che è stato colpito dall'abbattimento dei capi di Bestiame a causa della contaminazione della diossina dell'Ilva. Abbiamo accettato molto volentieri l'invito ad essere presenti qui stamattina perché il problema dell'inquinamento del territorio non è un problema solamente di Taranto ma come già in altre occasioni abbiamo avuto modo di verificare è un problema che coinvolge tantissime realtà in tutto il territorio italiano. Siamo stati anche partecipi alla manifestazione della Terra dei Fuochi lo scorso novembre quindi mi fa piacere avere gli amici nuovamente qui stamattina. è stato molto utile questo confronto, è una base di partenza proprio perché vogliamo uscire da un modello di sviluppo che è stato concepito solo ed esclusivamente a favore della grande industria quindi dobbiamo assolutamente ripartire da un modello di sviluppo agricolo bonificando questi territori. Ecco, a proposito di Terra dei Fuochi, questa mattina lo avete ricordato, la cosa importante è non restare isolati, mettersi insieme per portare avanti questa vertenza che riguarda il territorio, riguarda l'ambiente in cui viviamo. Noi diciamo che le vertenze ambientali non devono restare localizzate, quindi nei territori bisogna uscirne fuori, quindi unire le vertenze locali in un'unica vertenza ambientale prima del Sud Italia e poi nazionale. Quindi questo è il messaggio importante, ecco perché stamattina noi stiamo qua siamo qua per testimoniare questo, gli amici sono stati giù su da noi il 16 novembre noi la settimana scorsa abbiamo messo in mora questo governo perché nonostante tutto non è stato ancora fatto nulla, non solo nella Terra dei Fuochi ma anche in altri territori come la Basilicata e la Puglia stessa, cioè l'Ilvas è ancora lì, produce ancora morte. Quindi il periodo dell'interlocuzione per adesso è finito, ci stiamo preparando ad una nuova stagione di lotta, prepareremo un nuovo 16 novembre dove ovviamente ci saranno parole d'ordine molto più forti, abbiamo tentato l'interlocuzione con lo Stato però purtroppo non è servito ancora a nulla ma noi ci crediamo. Gianni Fabris, allora parte proprio dalla Basilicata un coordinamento che è destinato a diventare nazionale, mettere insieme una serie di emergenze, questo è uno dei luoghi simbolo per la nostra regione, qui si intersecano un po' tutte le emergenze, assetto del territorio, inquinamento, ambiente. Sì, qua i fiumi una volta erano una grande risorsa, una grande ricchezza, i greci che sono arrivati su questo territorio hanno risalito il Basento, il Bradano perché li consideravano fonte di ricchezza, ci hanno costruito una grande civiltà. Oggi per noi sono un grande problema per la nostra incapacità e gli errori nella gestione. La Basilicata sta in mezzo a Taranto e alla Terra dei Fuoghi, due grandi territori antropizzati, noi corriamo il rischio di diventare la metà degli abitanti entro 30 anni, il rischio quindi di essere una regione senza gli impicci di agricoltori che vogliono fare il biologico, gente che chiede salute, che chiede lavoro. A tutto questo non ci stiamo, stamattina ci siamo incontrati, abbiamo deciso insieme di chiamare tutti gli altri le vertenze territoriali di Puglia, Basilicata e Campania per incontrarci entro una quindicina di giorni. L'autunno non sarà solo di lotta per la terra dei fuochi ma i tarantini, i campani e i lucani devono sapersi organizzare, stare insieme e vincere la battaglia. Una giornata di mobilitazione che continueremo a seguire fino a questa sera con un'altra diretta nel corso del nostro telegiornale delle 19.35, qui a Lago Momò sono previste una serie di attività anche di animazione fino a questa sera, per il momento è tutto, da Pisticci ti restituisco la linea.